Poi riprendere anche i clienti per favore Siete stati soddisfatti? Avete mangiato la piedina? Sì, è buonissima! Ok, grazie, potete andare Grazie, ciao! Guardate che bel sorriso che ha sta ragazza Viste il mio schiavo Viste il suo schiavo Nero E' tutto vestito di nero Palestrato Fatta buona di carta Questa domenica bellissima Di sole Ciao, dimmi tutto E te sei il fratello? Non siete uguali Perché non sono uguali? Sì, sì, sono uguali E' il fratello di quello delle scarpe Giusto? Vieni nel video anche te, ma da dietro Da quanti anni che hai sto chiosco di piedina? Sei anni Sei anni Guardate questa bella ragazza Con questo sorrisino un po' birichino Che sta facendo i cassoni La piedina romagnola I veri cassoni romagnola Crescioni Ecco Cocciata subito la cameraman La caramela La caramela Io li chiamo cassoni Invece sono i crescioni Ce la dici la ricetta della piadina? No, non sei vero Allora, vi assicuro che i cassoni sono buonissimi Anche la piedina Io prendo sempre la piedina con la fontina e il prosciutto crudo Oppure il crescione col salame piccante Le melanzane E anche quello con le melanzane Che sono gustosi, gustosi Li vediamo lavorare Comunque noi qui siamo a Cesena Vedete dal finestrino Non so se riuscite a vedere Ma c'è davanti Dal finestrino c'è la chiesa San Domenico Perché questo chiosco di piedina Si trova davanti alla chiesa San Domenico a Cesena Che giorni fai Sara? Tutti i giorni E oggi sarebbe il mio giorno di riposo Eh però oggi c'è il mercato Quindi quando c'è il mercato La Sara viene perché ci vuole bene Esatto Se no mi trovate sempre al pomeriggio Eh però il mercoledì è E giorni di mercato Giori di mercato Qua la mattina Perché gli ambulanti Se non mangiano la piadina e i crescioni della Sara Non stanno bene E gli altri giorni quindi che ore fai? Dalle 4 alle 8 Quindi tutti i giorni Dalle 4 alle 8 Il mercoledì e il sabato Dalle 8 e 30 al 1 e 30 Dalle 8 e 30 al 1 e 30 E le domeniche quando c'è il mercato Quindi adesso le domeniche cosa fai? Natale come noi? Le 3 domeniche di Natale Vedete come sono felice? Sì Ti sei felice perché ci sono gli ambulanti Che ti rendono felice Se non ci foste voi bambini miei Vedi? Vedi? Allora allegrammi la giornata Ecco Adesso facciamo una videata Se volete essere ripresi riprendete Siamo al mercato di Cesena Posso riprendere? Posso continuare? Vado avanti Vado avanti Vado avanti Vado avanti Stai là Ok E adesso risalutiamo la Sara Che la lasciamo lavorare Un bacio Buona domenica Grazie Ciao